Sì, grazie Presidente. Con questa mozione chiediamo di impegnare il Sindaco della Giunta ad avviare un periodo di sperimentazione di 18 mesi, volto a verificare la maggiore utilità di impianti tecnologicamente avanzati, anche al fine di ridurre l'impatto ambientale, lo sbaltimento del PVC o altro materiale oggi utilizzato subordinatamente. All'obbligo in capo al concessionario gestore dell'impianto o della struttura di regolare i messaggi istituzionali, ovvero di interesse dell'amministrazione stessa. Quindi si tratta in estrema sintesi di dare la possibilità di utilizzare degli impianti elettronici e non plastici per questo tipo di cartellonistica. Sono il primo firmatario della mozione perché ciò che ci ha spinti a proporre questa mozione è stato il Gran Premio di Formula E, un evento sportivo per il quale potremmo iniziare ad avviare questa sperimentazione. e quindi di conseguenza, volendo poi generalizzare ed estendere naturalmente anche ad altri ambiti, abbiamo pensato insieme al Presidente Coglia e a Saraseccia, l'altra firmataria della mozione, di dare appunto il prevedere questa possibilità per un periodo di 18 mesi, anche in altri ambiti naturalmente non solo sportivi. Grazie.